senti un po galimbo la vecchiaia ma che ti sei fumato? cioè stai peggio di quell'altro di Piero d'angelo la? cioè veramente ma che ti sei fumato? ma ho finito di cavolate? ma ti vuoi aggiungere anche tu alla lista dei quei relabili? no perché stavolta l'hai sparata proprio grossa ma grande l'hai sparata? cioè veramente ma ti rendi conto? ma che stai a dio? guarda che qua se c'è qualcuno che fa reato no? non siamo noi eh? toglietelo dalla testa non siamo noi cioè informate bene cioè ma perché ma ma poi ancora ma 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 fai il filosofo occupati di filosofia non ti occupa le scienze non ti riesce bene le scienze e di medicina lascia perdere la materia tua lascia proprio perdere o vuoi una denuncia per esercizio abusivo di professione medica? vuoi una denuncia? visto che stiamo parlando dei reati vuoi una querela per per esercizio abusivo di professione medica? vuoi fare concorrenza a Vanna Marchi? a mamma ebbe? a chi altro vuoi fare concorrenza?